ciao bambini venite in un posto eccezionale con me si vogliamo che bello ok allora andiamo al campo militare facciamo presto basta aspettare cosa vedete bambini un carro armato si esatto nel campo militare è il pezzo più pregiato salve carro armato puoi dire che fai ai miei bambini io proteggo il paese e i suoi confini guardate il camion militare ciao camion militare dimmi che devi fare ciao bob ai soldati sto portando da mangiare perciò devo andare ciao ambulanza sembri un po affannata ehi bob è perché son sempre indaffarata ma cos'è che fai per tutto il giorno porto via i soldati feriti e poi ritorno è proprio un gran lavoro si signor bob di sicuro cosa c'è la che viene fuori dall'acqua poco fa non l'avrei visto neanche da vicino ehi la bob sono il signor sottomarino il mio nome significa sotto il mare ma sia fuori che dentro l'acqua io posso stare ciao sottomarino ciao bob come state salute a te signora nave navigavi per le acque sconfinate si per proteggere le coste navighiamo sui sette mari ed è certo una gran cosa di cui andare fieri guardate là è una porta aerei o no è proprio quel che sono come stai mio caro bob io sul mare sono come un aeroporto tutti questi aerei io da sola li trasporto un aereo da battaglia che decolla bello vero io volo così in alto che proteggo il cielo intero guardate un elicottero da trasporto come va lassù ciao bob come stai tu io trasporto le truppe e i cieli attraverso vicino lontano non è diverso arriva il bombardiere guardate bambini ciao bob mi chiamo bombardiere ed i nemici faccio tremare le mie bombe distruggono qualsiasi obiettivo sia sulla terra che per il mare ciao trasporto truppe corazzato cos'è lì dentro che stai nascondendo ciao porto forze militari laddove si sta combattendo ciao bob come va laggiù ciao elicottero come stai tu sono molto simili al camion militare tutti quanti posso aiutare servo a raggiungere zone difficili da avvicinare via terra o via mare bambini guardate che trasporto militare è quello riuscite a indovinare aeroplano jeep elicottero dai dicelo per favore no è un overcraft militare oh mio dio lo stiamo per incontrare io posso andare su qualunque superficie e non c'è ostacolo che mi possa fermare guardate là bambini arriva una jeep militare ciao bob io su strade accidentate ripide e scoscese riesco sempre andare bambini spero vi siate divertiti al campo militare adesso ciao a presto devo proprio andare ciao ciao bob ciao sono bob il treno viaggio sui binari e i passeggeri possono sedersi su di me e andare verso luoghi lontani posso anche portare merci da un posto a un altro andiamo a trovare gli altri mezzi di trasporto guardate là c'è un'automobile hey bob sto andando a fare un picnic ci vediamo presto bob guardate bambini c'è una macchina della polizia cosa stai facendo macchina della polizia i poliziotti siedono dentro di me per catturare i ladri è un lavoro coraggioso combattere contro l'ingiustizia dov'è che vai così di fretta camion dei pompieri delle persone sono intrappolate in un incendio sto andando a salvarli con l'aiuto dei pompieri guardate arriva un'ambulanza io vado a portare malati e feriti all'ospedale e tu cosa fai camion della spazzatura? io raccolgo i rifiuti guardate ci sono muletto e bulldozer ehi ragazzi cosa state facendo? ciao bob sto aiutando a muletto rimuovendo gli ostacoli ciao bob io aiuto caricando e scaricando allora buon lavoro ragazzi guardate là c'è l'elicottero che vola via ciao bob ciao carroattrezzi e tu cosa fai? io traino le macchine guaste spero vi siate divertiti bambini imparando i vari mezzi di trasporto ciao io sono bob e voglio aiutarti a imparare i numeri contiamo tutti i numeri sui miei vagoni un furgone uno ciao uno ciao bob due orologi uno due come va due? tutto bene bob tre barattoli uno due tre ciao tre come va bob? quattro soli uno due tre quattro ehi la quattro tutto bene bob? cinque ombrelli uno due tre quattro cinque ciao cinque ciao bob sei arance uno due tre come va bob? bene bob sette mele uno due tre quattro cinque sei sette ciao sette ciao sette come va bob? otto cappelli uno due tre quattro cinque sei sette otto come va otto? tutto bene bob nove lecca lecca uno due tre quattro cinque sei sette otto nove ciao nove dieci come va dieci come va dieci? benone bob adesso contiamo i numeri un'altra volta uno due tre quattro ciao bambini io sono bob oggi impareremo l'alfabeto a è la prima lettera che dobbiamo trovare andiamo a cercare a bambini riuscite a vedere a si nasconde dietro il lampione buh ciao bob ehi vieni con me ok bob cosa stai facendo lassù b? ti stavo cercando ed eccoti qui guardate bambini c'è chi e sembra stia andando da qualche parte ciao bob ciao chi dove stai andando? sto andando al parco perché non ti unisci a noi invece? siiii di che stai facendo dietro quell'albero? sta giocando a nascondino vieni con me a fare un bel giro? sii ciao ehi come stai? ti vuoi unire a noi? ciao bob bene grazie mi piacerebbe molto unirmi a voi bambini che cos'è? perdi indirindina è f ciao bob ciao g dove stai andando? ciao bob sto andando a a incontrare h vieni con me ciao h ciao bob ehi g andiamo con bob siiii bambini le prossime lettere sono i e g stiamo aspettando l'autobus per andare alle isole galleggianti anch'io sto andando alle isole galleggianti venite con noi bambini guardate cappa è sull'altalena bob posso unirmi ai miei amici i e j? siiii siiii aspettatemi vengo anch'io ciao m che stai facendo? ciao bob sto andando a casa perchè non ti unisci a noi invece? siiii ciao n ciao o ciao bob ciao bob ciao bob ciao p dov'è q ciao bob sto cercando q mi aiuti a trovare q ecco q ecco q che si nasconde dietro la casa guardate bambini c'è s ciao bob sto aspettando r ciao bob ciao bob ciao ti stai andando da qualche parte? ciao bob sto andando in città a incontrare u e v andiamo a trovare u e v insieme ciao u e v venite con me a incontrare w? siiii siiii anche noi andiamo a trovare w andiamoci insieme ciao w ciao bob sto aspettando i miei amici i miei amici t u e v li hai visti? siiii sono a bordo perchè non ti unisci a loro? siiii guardate i nostri amici possiamo unirci a loro bob? certo x y e z è stato divertente a presto ciao a tutti che splendida giornata oggi andiamo alla fattoria oh 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 in fattoria ia ia o vai con bob in fattoria ia ia o quante bestie sulla via ia ia o c'è la mucca 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 mur vai con bob in fattoria ia ia o vai con bob in fattoria ia ia o quante bestie sulla via c'è il maiale il maiale vai con bob in fattoria vai con bob in fattoria quante bestie sulla via la gallina la gallina vai con bob in fattoria vai con bob in fattoria quante bestie sulla via c'è la pecora pecora vai con bob in fattoria vai con bob in fattoria quante bestie sulla via c'è il cane cane cacca cane vai con bob in fattoria i a i a o vai con bob in fattoria i a i a o quante bestie sulla via i a i a o c'è gatto gatto gaga gatto vai con bob in fattoria i a i a o ciao bambini spero vi siate divertiti ciao bambini dite oggi come andiamo siete pronti sì perché oggi noi giochiamo con tante forme colorate e divertimento a volontà eccole che arrivano adesso ognuna si presenterà mi chiamo quadrato ho i lati uguali e sono quattro come mi giri sono sempre uguale io sono il quadrato non puoi sbagliare cerchio così mi chiamo sono tondo e rotoloso puoi toccarmi con la mano io non sono spigoloso sono il cerchio sono il cerchio rettangolo son chiamato ho quattro lati come il quadrato ma i miei son diversi non ti sbagliare due corti e due lunghi prova a contare uno due tre quattro triangolo è il mio nome sali dritto fino in cima poi scendi giù dalla collina torna indietro e che hai trovato un triangolo sì sono un triangolo ok bambini dobbiamo andare a giocare con le forme e a costruire quanto siamo bravi ora mostriamo una bella casetta con le forme facciamo i miei quattro lati son tutti uguali come son chiamato quadrato sì mettiamolo qui e adesso il tetto secondo voi che forma ci metto triangolo si mettiamolo qui che è perfetto siamo proprio forti e ora una forma con quattro lati due lunghi e due corti rettangolo un rettangolo indovinato e che bella casa abbiamo creato visto che ci divertiamo allora adesso continuiamo se vogliamo andare lontano da qua un'automobile ci servirà sapete qual è la forma che va rotolando qua e là un cerchio proprio lui sì e poi va messo così ci serve un pezzo a quattro lati due più stretti e due allungati rettangolo sì è un rettangolo e mettiamocelo sopra quale forma quattro lati uguali adesso ci vorrà quadrato il quadrato è perfetto e guardate ecco qua ogni forma abbiamo usato e una bella auto abbiamo creato ora un bell'albero potremmo fare bambini mi volete aiutare sì prima un rettangolo un po marroncino dite un po non è carino quale altra forma potrebbe servire cerchio rettangolo dicelo per favore ok dei triangoli potremmo usare wow che bell'albero ad esser sincero bambini non è forse vero sì adesso facciamo una bella altalena bambini che dite ne vale la pena sì l'altalena ci piacerà sì urrà urrà ok con che forma partiamo chissà perfetto un triangolo è quel che ci va con quattro lati due corti e due lunghi serve una forma che lo ricopra prendi un rettangolo e mettilo sopra ora pian piano appoggiamolo su guardate la nostra altalena va su e giù io mi diverto e voi come va bene bob urrà urrà dobbiamo sederci e mangiare qualcosa ci servono sedie e una tavola nuova con quattro rettangoli facciamo le gambe mettiamole tutte qui in quest'angolo sembra perfetto grazie rettangolo ora serve una forma circolare bambini volete dirmi che forma cercare un cerchio esatto un cerchio lo appoggiamo sopra e hop là più grazioso che al negozio il nostro tavolo eccolo qua coi quadrati e coi rettangoli le sedie dobbiam fare guarda qui che meraviglia ci possiam tutti sedere grazie forme è stato proprio divertente spero che vi sia piaciuto ci vediam prossimamente ciao io sono bob dai sentiamo insieme i versi degli animali vi66 buonga puoi sentir la papera qua 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 senti la gallina Co, 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 senti la gallina che fa co, co, co Senti qui il cavallo, i, 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 senti il cavallo, i, i, i Vuoi sentir la mucca, mu, mu, mu Senti qui la mucca che fa, mu, mu, mu Senti il maiale, oin, oin, oin Senti qui il maiale, oin, oin, oin E senti la pecora, be, be, be Senti qui la pecora fa, be, be, be Puoi sentire il cane, bau, bau, bau Senti qui il cane, bau, bau, bau Puoi sentire il gatto, miau, miau, miau Senti qui il gatto che fa, miau, miau, miau Puoi sentir la scimmia, u, a, a Senti qui la scimmia, u, a, a E senti il leone, ro, 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 ro Senti qui il leone che fa, ro, 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 ro Puoi sentire il gufo, u, u, u Senti qui il gufo, u, u, u Senti la ranocchia, cra, cra, cra Senti la ranocchia che fa, cra, cra, cra Senti il serpente, bis, bis, bis Senti qui il serpente, bis, bis, bis Puoi sentire la mosca, bzz, bzz, bzz Senti qui la mosca che fa, bzz, bzz, bzz Puoi sentire l'asino, o, i, o Senti questo asino, o, i, o Puoi sentire l'oca, que, que, que Senti l'oca che fa sempre, que, que, que Vi è piaciuto? Sì Tornate quando volete Vi va di fare un giro per la città? Sì Allora tutti a bordo Le ruote del treno girano, girano, girano Le ruote del treno girano, per tutta la città Il clacson del treno fa tu, 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 tu Il clacson del treno fa tu, 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 tu Per tutta la città Il motore del treno fa ci, 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 ci Il motore del treno fa ci, 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 ci Per tutta la città I vagoni del treno vanno su e giù, su e giù, su e giù I vagoni del treno vanno su e giù, per tutta la città I bimbi sul treno fan uè, 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 uè I bimbi sul treno fan uè, 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 per tutta la città Le mamme sul treno fanno shu 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 Le mamme sul treno fanno shu 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 per tutta la città I passeggeri sul treno fanno boing 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 passeggeri sul treno fan boing 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 per tutta la città le rotaie sotto il treno fan ta 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 le rotaie sotto il treno fan ta 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 per tutta la città vi è piaciuto bob il treno? allora tornate presto impariamo gli animali elefante panda giraffa scimmia leone tigre pecora maiale mucca cane impariamo la frutta mela pera uva mango banana mora arancia ciliegie impariamo le forme percone quadrato rettangolo cerchio ellisse fortuna triangolo pentagono esagono ottagono rombo stella impariamo le verdure pomodoro carota peperone melanzana fungo patata broccoli cetriolo piperone piperone piperone